Il comune di Battipaglia, dicono a Giancarlo, ci vogliono ancora tanti centopassi. Sono le parole amare che Paolo Siani, pediatra e senatore del PD, nonché fratello di Giancarlo, affida a Facebook per via della mancata intitolazione di uno dei padiglioni della scuola fiorentino al giornalista del mattino trucidato dalla camorra. Parole a cui si aggiungono quelle del premio Siani che scrive su Facebook il comune di Battipaglia non riesce a cogliere nella richiesta della scuola fiorentino il senso profondo pedagogico e di educazione alla tanto declamata cultura della legalità. Un'educazione fatta di esempi ancora vivi e tangibili contro le camorre. Caro sindaco, concludono i promotori del premio, ci vuole tanto a comprendere cosa significhi per i professori, il dirigente, i genitori dell'Istituto Francesco Fiorentino della sua città intitolare una parte della scuola a un giovane giornalista ucciso solo per aver scritto liberamente contro la camorra? E' colpa mia, ha replicato la sindaca cecidia francese al quotidiano del mattino. Ho firmato senza rileggere. E' stata la fretta, spiega la sindaca, dettata dall'urgenza di intitolare Viale della Previdenza, dove fra poco verrà inaugurata la nuova sede dell'Inps. La commissione che ha bocciato la proposta è composta dagli ex sindaci Bruno Mastrangelo, Enrico Giovine, Enrico Garofano e Alfredo Liguori.